ciao a tutti oggi vediamo come utilizzare delle punte a pallina con il nostro pierografo bern peter junior vediamo che nella parte davanti c'è proprio una pallina e questo è un esempio di utilizzo tenendo premuto si avrà l'incisione delle dimensioni della pallina in questo caso ho voluto fare una cornice a palline più tengo premuto e più l'incisione sarà profonda e scura come vediamo va benissimo questa punta anche con il nostro bern peter junior è una punta a filo con una pallina da 2 mm e mezzo e questo è il risultato che volevo ottenere in questo modo invece faccio delle piccole e piccoli puntini per dare un effetto un po diverso quindi sto più leggera e come una puntinatura molto molto veloce e leggera per riempire questi spazi grazie a tutti ed ecco il risultato questo potrebbe essere una semplice decorazione natalizia fatta con un lignetto oppure un portachiavi io vi ringrazio visitate il nostro sito elettronicadidattica.com per punte a pallina e accessori per la pirografia vi saluto e vi aspetto per i prossimi video